Lei segue il festival? No, non so niente, non lo so. Io sono qua per comprare dei pezzi per una motozappa, non so. Lei non si è chiesto perché ci fossero tutte queste persone? No, sinceramente no. Stavo passando per cercare il negozio, ho visto confusione e mi sono avvicinato, ma non so nulla. Un nuovo eroe. Un nuovo eroe.